Si è svolta a Prato la Da Piazza a Piazza, marathon di 71 chilometri per 2100 metri di dislivello. Grande partecipazione di biker che hanno riempito le griglie di partenza allestite come sempre lungo l'argine del fiume Bisenzio. Tra i big in gara anche Francesco Casagrande, Riccardo Chiarini, Alexei Medvedev, Tony Longo, Leonardo Paez. Alle ore 10 lo start si esce dal centro storico di Prato per affrontare la prima salita di giornata, dove si avvantaggia il gruppo dei migliori formato da circa 15 atleti. A metà gara restano in quattro al comando Tony Longo, Alexei Medvedev, Leonardo Paez e Daniele Menzi, tutti del Sudal Likugan International MTB Team. I quattro di testa hanno già oltre un minuto di vantaggio dal gruppo degli inseguitori aperto da Martino Tronconi. Mentre per la gara femminile in testa ci sono Catazzina Sosna, Sandra Mayrofer e Chiara Burato. Verso il finale di gara Alexei Medvedev apre il gas e resta da solo al comando inseguito dal compagno di squadra Leonardo Paez e in terza posizione più staccato da Tony Longo. Il primo a presentarsi sul rettilineo d'arrivo di Prato è Alexei Medvedev, Sudal Likugan, che va a vincere con il tempo di 2 ore 36 minuti 43 secondi, seguito in seconda posizione da Leonardo Paez. Terzo, Tony Longo, podio tutto Sudal Likugan International MTB Team. Per la gara femminile Catazzina Sosna perde terreno a favore delle avversarie Sandra Mayrofer e Chiara Burato. Ed è proprio Sandra Mayrofer del RDR Italia Team a vincere la da piazza a piazza davanti a Chiara Burato del Team Andrejs e Silvia Scipioni della ciclita Day che giunge terza. Mentre Catazzina Sosna deve accontentarsi della quarta posizione.